Gentili signore e signori, mi chiamo Giampietro Calasso, sono un regista italo-americano. Sono nato a Firenze e ho assunto successivamente la nazionalità americana. Oltre che regista sono anche sceneggiatore e autore ed è in questa veste che mi è stato chiesto di dirvi qualche parola su questo libro. Il titolo del libro è La trasmissione segreta del fiore, un titolo esotico che suona esotico e di fatto lo è. Il fiore nel linguaggio poetico di Zeami, il fondatore leggendario del teatro No, significa l'arte della recitazione. Per quanto riguarda la trasmissione segreta, questa è una caratteristica tipica del mondo del No, in cui gli attori si tramandano i segreti della loro arte di padre in figlio di generazione in generazione. Così il No comincia, viene fondato da Zeami Motokyo Kanze 600 anni fa e 600 anni dopo a Tokyo c'è una famiglia di attori che si chiama Kanze che sono i suoi diretti discendenti. Questo libro è formato da diverse opere, per cui è legittimo domandarsi quale sia il rapporto fra queste opere diverse. Una prima risposta ci viene dal sottotitolo. Il libro si chiama La trasmissione segreta del fiore, ma ha un sottotitolo, Il segreto del teatro dal Giappone classico all'Europa di oggi. Inoltre, nella quarta di copertina ci sono alcune righe che rispondono ulteriormente alla domanda, tanto vale che ve le legga. Una pièce contemporanea, un dramma no di sei secoli fa, due libretti di opera lirica, due saggi sul teatro più moderno, suona come un assemblaggio eterocrito, ma sotto l'apparenza di sparità una sottile essenziale sinergia unisce profondamente questi testi apparentemente così diversi. Il rapporto fra il teatro occidentale contemporaneo e il no e tutta la cultura classica giapponese, fino all'ineffabile zen di cui il no è intriso, rappresenta il filo rosso che unisce in un mosaico i vari testi del volume. Forse vale la pena che dica ancora un paio di parole per specificare questo filo rosso e in cosa consiste. Allora, la prima opera si chiama La trasmissione segreta del fiore ed è una pièce teatrale. Questa pièce teatrale esprime poeticamente quelli che sono i rapporti fra il teatro occidentale moderno e il teatro no. La seconda opera si chiama Toru. Toru è un testo alla traduzione italiana con un apparato critico di note di un testo del no giapponese attribuito a Zeami. Successivamente ci sono due libretti di opera. Il primo si chiama Adriano, il secondo si chiama Viaggio al Paradiso. Adriano è direttamente ispirato a Toru. Viaggio al Paradiso è ispirato a un'antica leggenda giapponese. I due saggi si intitolano il teatro più moderno e teatro teatrale e attore virtuoso. Da questi saggi emerge la conclusione apparentemente paradossale che in realtà il teatro più moderno sia oggi quello più antico, cioè il no. Nella pièce intitolata La trasmissione segreta del fiore, il fantasma di Zeami, il più grande attore della storia del teatro giapponese, viene a far visita a Giorgio Albertazzi, il più grande attore della scena italiana contemporanea per discutere insieme l'essenza e il futuro dell'arte e della recitazione e il dramma dell'attore di vivere nell'occhio dello spettatore. Può valere la pena di dire un paio di parole anche sulla genesi di questo testo. Ero tornato da poco dall'America e sono andato al Teatro Argentina a vedere le memorie di Adriano e a salutare il mio vecchio amico e collaboratore Giorgio Albertazzi. Quello che ricordo di questo spettacolo è una scenografia più o meno inesistente, una regia molto evanescente, ma sul palcoscenico c'era un vecchio avvolto in una toga bianca e questo vecchio, per quanto avesse le sembianze di Giorgio Albertazzi e anche la sua voce, era l'imperatore Adriano. Sono rimasto sorpreso dai progressi che Giorgio ha fatto in questi lunghi anni in cui non ci siamo visti. In altre parole è arrivato a quello che Ziami chiama il fiore meraviglioso, cioè il massimo dell'arte dell'attore, quando l'attore non recita più, è il personaggio. Dopo lo spettacolo sono salito ai camerini a salutare Giorgio e lì è avvenuto questo breve dialogo. Giorgio gli ho detto ma non reciti più e lui mi ha detto mi ci sono voluti 40 anni per arrivarci e io gli ho detto e cosa facevi 40 anni fa? Recitavo per te in Ziami al Maggio Musicale Fiorentino. Questo Ziami è stato un grande spettacolo, io spero che sia stato grande anche dal punto di vista artistico. Certamente è stato grande dal punto di vista organizzativo e finanziario. Questo purtroppo è stato un limite perché contrariamente a quello che Giorgio e io volevamo non è stato possibile fare e portare lo spettacolo in tournée per tutte le città d'Italia. Quindi è rimasto in qualche modo lo spettacolo confinato nell'ambito di un festival molto prestigioso ma sempre un festival. Si può dire quindi che questo testo, la trasmissione segreta del fiore, sia di fatto la continuazione ideale di Ziami. Protagonista assoluto della pièce è Giorgio Albertazzi, nella sua doppia veste di Giorgio Albertazzi e di Ziami che è il suo alter ego. C'è poi un terzo personaggio chiamato la voce. Questo sarebbe il regista, sarei io, ma di fatto questo personaggio non si vede mai. La sua presenza nel testo consiste in un dialogo con Albertazzi via telefono in cui loro due organizzano lo spettacolo. Oltre che con la voce, Ziami dialoga con molti altri personaggi. Naturalmente l'azione teatrale avviene tramite dialogo. Questi personaggi sono Ziami, come dicevo il suo doppio, e anche una serie di personaggi rilevanti nella vita di Ziami che sono interpretati da delle maschere, delle bellissime maschere del no. E poi finalmente col pubblico. Col pubblico il rapporto avviene in modo estemporaneo. Albertazzi fa una domanda al pubblico, il pubblico risponde. Se non risponde ci sono disseminati in platea una serie di attori che fanno, interpretano la parte di personaggi del pubblico che rispondono a Albertazzi secondo il canovaccio. La pièce si sviluppa attraverso una serie di telefonate fra Albertazzi e la voce. E data la magia della regia e della scenografia digitale, che è implicita, che è scritta nel testo, quello che loro due si raccontano, le scene che concordano, appaiono come magicamente sul palcoscenico. Il pubblico assiste quindi a uno spettacolo diverso dal solito. Normalmente c'è un testo e viene recitato. In questo caso non si ha l'impressione che sia un testo recitato, si ha l'impressione di uno spettacolo che si evolve così in fieri. Volendo si può trovarci una specie di riminiscenza pirandelliana, in particolare con Stasera si riesce tra soggetto, forse anche con i sei personaggi. Si profila così la storia di questa straordinaria forma di spettacolo, il no, a cominciare da una celebre serata del 1375, quando per la prima volta l'imperatore del Giappone si degna di assistere a uno spettacolo teatrale. E questo avviene al Padiglione d'Oro, residenza del grande shogun Ashikaga Yoshimitsu, patrono delle arti e patrono di Zeami. Dopo si finisce con l'ultima parte della vita di Zeami, quando il grande attore ormai è caduto in disgrazia a corte ed è esiliato su un'isola deserta ed è diventato un monaco zen. Zen, questa parola, questo termine così misterioso, enigmatico, ineffabile, ineffabile perché lo zen non può essere definito per la sua stessa natura. E allora quando ho affrontato questa parte non ho nemmeno cercato di definire lo zen, ho cercato solo di evocarlo. Una cosa non facile peraltro, comunque mi sembra di esserci riuscito abbastanza bene, ma se ci sono riuscito bene o meno siete solo voi che lo potete giudicare. Dopotutto anch'io vivo nei vostri occhi. A questo punto vedo che il tempo a disposizione sta scadendo, non mi rimane quindi che salutarvi, ringraziarvi della vostra attenzione e augurarvi buona lettura. La trasmissione segreta del fiore di Gian Pietro Calasso, edizione Nuova Cultura